114 maglie storiche per 114 anni del Bari. Lo spazio Murat si tinge di bianco-rosso con la storia del Bari attraverso le maglie, la mostra di maglie storiche del club del capologo pugliese che si terrà dal 13 al 15 gennaio prossimi. La mostra è organizzata dal Museo del Bari con il patrocinio del comune della SSC Bari. Tutti i pezzi unici messi a disposizione dalle colonne portanti del museo Roberto Vaira e Francesco Girone, acquistate a suo tempo e adeguatamente conservate per donare alla città quei ricordi di nonni e padri legati alla fede bianco-rossa. In programma tre giorni ricchi di eventi e iniziative rivolte anche al sociale sotto il segno del Bari, della città e della sua storia. Abbiamo pensato anche delle iniziative sociali perché è un po' l'indicazione anche dell'amministrazione l'inclusione sociale e quindi ci sono due associazioni che ci affiancano. Sono delle presentazioni a margine dell'evento ma sono altrettanto importanti perché è stata fatta un'asta con delle maglie che il presidente ha messo gratuitamente all'asta e il raccolto andrà a queste associazioni. La passione di tante persone che hanno collezionato queste maglie e che mettono a disposizione di tutti quanti, nel rispetto delle norme anti-covid naturalmente, queste maglie stesse mettono a disposizione la loro passione ed è la maniera più bella per festeggiare la squadra. Non è facile perché c'era la maglia di Gio Paolo che ne ha indossate diverse, ha indossato la 11, forse all'inizio anche la 7, per un periodo ha portato la numero 16 e la 15 forse la portava Perrune. La numero 11 di Gio Paolo e la numero 10 di Protti, quando Protti portava la 10. Grazie.